Calcio d'angolo, dalla sinistra va Paun, inquadriamo un lato di rigore che non scusa dei pali, delle traverse, del reti, ma è questo, il calcio, questo è il calcio. Siamo arrivati a vedere meglio, dovete venire qua. Go! Pierneco! Pierneco! 4-1! Bravo! 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 Gira sempre tu! Che dire ragazzi, che dire, lasciamo parlare il campo. Fiam Daca, Carlo, numero 10, gol. Torniamo nelle posizioni.